In questi giorni sono state tante le notizie diffuse in merito allo stato di salute di Emma Marrone. Quando e dove si è tornato il tumore al momento non è dato saperlo, visto che tutti siamo in attesa di un'intervista ufficiale da parte della cantante. L'unica cosa certa adesso è che l'intervento per Emma Marrone ha avuto esito positivo e che potrà diventare mamma. Non molto tempo fa la cantante ha di più, parlando del desiderio di diventare mamma ha dichiarato «Vorrei avere un figlio e se non dovessi trovare l'uomo giusto ricorrerei a tutti gli espedienti della scienza per averlo». Infatti la cantante Salentina dieci anni fa ha dovuto lottare con un tumore all'ovaie, il quale un giorno avrebbe potuto compromettere le sue possibilità di diventare mamma. A spiegarlo era stata la stessa Emma che durante un'intervista aveva dichiarato «Ho scelto di fare il congelamento del tessuto ovarico perché non si sa mai. In questo modo un domani se ci dovessero essere dei problemi avrò un'ulteriore opportunità». Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.